Amici, in questi giorni si è finalmente conclusa la scuola e di questo ne siamo tutti contenti, però purtroppo ho una brutta notizia. L'episodio che andrete a vedere oggi sarà l'ultimo episodio della serie Hardcore, che tanto amate e di questo ne sono molto grato. Quindi oggi andremo a sconfiggere o a morire a causa dell'Ender Dragon. Incrociamo le dita, incrociatela per me, in caso vi foste persi gli episodi precedenti, tranquilli. Perché ho messo tutto in una playlist che andrete a trovare nella sezione playlist del mio canale. Quindi se avete perso gli episodi precedenti, andateli a recuperare, ci sarà molto da divertirsi. Ma adesso, signori, ci sarà da piangere a causa dell'Ender Dragon. Non voglio morire l'ultimo episodio. Iniziamo. Signori, siamo sponati nella zona in cui ci siamo lasciati l'ultima volta e finalmente l'ultimo episodio è arrivato. Ma signori, prima di iniziare a fare il tutto, dormiamo e risvegliamoci per il nostro ultimo giorno su Minecraft. Maialino, sì, però guardami, maialino, cosa metti la testa nel muro? Lo so che stai piangendo anche tu, ma non fa piangere anche me, maialino. Purtroppo dobbiamo dirgli addio. Addio, casettina che non è mai stata modificata. Addio, costruzione alquanto strana, però comunque efficace. Addio, mucchettine. Vi ho sempre voluto bene. A voi pecore un po' di meno. A voi, mucchettine, un po' di più. E addio, farm di pesca. Sei stata fondamentale a potenziarci tutte le armi. Ma soprattutto, signori, diciamo addio a questa zona e a questo seed. Che, tra l'altro, tra l'altro, se lo trovo ve lo metto in descrizione. Ora, dovrebbe essere tipo... Ah, eccolo qui. È questo qui. Quindi, 180971. Vabbè, dopo ve lo metto in descrizione nel primo commento. Quindi, l'addio è stato detto. Ho preso il tutto, mele d'oro, palla di ferro e tutto quello che ci serve. In realtà non serve la palla di ferro, non so perché l'ho detto. E, appunto, nell'ultimo episodio mi ero fatto qui questa cosa e dovevamo scavare verso il basso. Che, appunto, ci fa sbucare direttamente sopra il portale. Ok, perfetto. Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Torniamo su. Ah, era questo il buco. Ah, ok. Sì, signori, era decisamente questo il buco. Mi sono spezzato le gambe. Quindi, abbiamo tutto, 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 tutto preso. Blah, 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 blah. Spostiamo un attimo la pala. Mettiamoci la mela d'oro. E, ok, abbiamo tutto, signori. Iniziamo. Sono veramente emozionato, sono veramente emozionato. No, io ho già paura, io ho già paura. Signori, allora, a parte il fatto che io ho già paura di morirci, tipo, subito a causa degli Enderman. Cioè, allora, non vi prometto niente. Sono abbasta... No, stai fermo, Enderman. Enderman, stai buono. Fatemi almeno arrivare dal drago. Poi posso morirci? No, finirà in tragedia, finirà in tragedia, signori. Finirà in tragedia, ve lo dico tranquillamente. Dato che non vi prometto niente... Eh, ok, ho smennato una freccia. Dato che non vi prometto niente... Oh, mio Dio, quanto danno, però. Non abbiatecela a male con me, perché molto probabilmente... Molto probabilmente... Me l'adoro, me l'adoro, me l'adoro, me l'adoro, me l'adoro. No, signori, finisce in tragedia, finisce... Io lo so che finisce in tragedia. Ma perché, perché, per... Oh, no, ti prego. Sali. No, 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 no. Ecco, signori, è già finito l'episodio. Perfetto, è già finito l'episodio. Ok, va bene, grazie, ciao. Non lo ucciderò mai, non lo ucciderò mai. No, vai via, vai via. Signori, no, sto già... Sono tutto... Oh, Dio. No, dannazione, ma vai a farti gli affari tuoi. Cioè, non farmi essere scurrile, che poi mi demonetizzano. Già guadagno un euro al mese con... Allora, calmi, calmi, molto calmi, molto calmi, molto, molto calmi. Chiudi tutto, chiudi tutto. Ecco, non ho già più materiali, non ho già più materiali, non ho più blocchi. Allora. No, 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 no. Vabbè, ti prendo a frecciate. Ti prendo a frecciate, così te ne vai, magari. Via, ti... No, scappa da quella roba, scappa da quella roba. Dai, ma perché? Perché deve finire in tragedia, perché deve finire in tragedia? Questi blocchi ci mettono anche tre ore a romperli. No, dai, non ce la farò mai, signori. Cioè, avete presente quando uno dice Credi in te stesso. Ah, che sberla. Credi in te stesso, dai che ce la fai. Ecco, non è il mio caso, perché al momento sono abbastanza sicuro di morirci a causa del drago. Quindi, se evitasse di stufarmi, magari potrei anche salire qua sopra. No, no, ti prego, non adesso. Non adesso che prendo danno da caduta e muoio. Non adesso che prendo danno da caduta e muoio. Dammi tutto, dammi tutto. Quanto ci vuole salire? Oh. Fai la barricata che ho imparato a farla nella serie Skyblock. E spacca. Ok, ora, ora, ora. Ok, ci siamo, ci siamo. Ho imparato che posso tirare... Cioè, devo tirare. Bravo, Mass. Bravo, Mass. No, no, please, no, please, no, please, no, please. No, please. Eh, quello là come faccio? Quello è come faccio a romperle? Non posso romperle. Allora, allora, barrichiamoci, barrichiamoci, barrichiamoci tutto. Tiragli le sberle. Tiragli le peggio sberle. No, please. Con la carne lo sto picchiando. Cioè, signori, avete mai visto picchiare un drago con la carne? Beh, adesso sì. Potete dire di aver visto tutto nella vostra vita. Sono, sono... Devo ammetterlo. Devo ammetterlo che sono veramente euforico, ma anche sono veramente impaur... No, datemi Lascia. Datemi Lascia. Dov'è Lascia? Dov'è Lascia? Dov'è Lascia? Ecco perché mi serviva Lascia. Ecco perché mi serviva Lascia. Ho detto, ma perché Lascia la casa? Lascia, Lascia. Non so più cosa sto dicendo. Datemi il piccozzo. Piccozzo. Ok, scendiamo. Allora, il nostro lo stiamo facendo abbastanza discretamente. Potrei fare molto meglio. So che voi al mio posto fareste molto meglio, ma non avete idea dell'emozione che sto provando nello sconfiggere, nel sapere di poter sconfiggere l'Ender Dragon, ma avere soltanto una vita. Soltanto una vita, signori. Soltanto una vita. Ok, ho ripreso tutti i materiali. Siamo contenti, quindi prendiamoli, dammi tutti i materiali qua. Ok, devo salire da sto schi... Ah, 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 no, via, via, eh no, è già finita. È finita. Morti, basta, finita, morti. È andata? È andata? Ho un'idea, ho un'idea. Potrebbe essere l'idea più stupita della storia, eh? Finché non recupero la vita, sto qua e intanto mi farmo i materiali. Quindi, ci vediamo tra un attimo. No, 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 allora, allora, signori. Ok, perfetto, esplode tutto. Siamo su sta cosa e... No, da dove sto sparando? Allora, devo distruggere quelli là. Mi ero fatto... Uh, bravo, Masser. Mi ero fatto un cos... Vabbè, non so più parlare. Fate finta che io non stia dicendo niente e, soprattutto, fate finta che... No, no, no. Per sicurezza, Masser, datti la mela d'oro. Bravissimo. E devo spaccare tutti quei cosi. Non ne man... Uh, bravo. Ubin! Ok. Non ne manca molti, in realtà, eh. Ne manca uno, due, ne mancheranno boh... Tre, quattro, cinque, non lo so. Non ne ho la più pellida idea. So solo che mi voglio riprendere sti cosi che erano i miei ultimi blocchi di Cobblestone, in realtà, e provare a salire su questo. Anzi, facciamo che usiamo questo. Ti prego non cadere, ti prego non cadere. O come... O comunque, ti prego non attaccarmi, Drago, Drago. Drago! Drago, non facciamo scher... Drago, sta... Questo è scemo. Ditelo. Ah! Ah, lì, sali di nuovo, sali di nuovo, sali di nuovo, senza paura, senza paura, senza pietà, senza paura, senza pietà, senza pietà, senza pietà, senza paura. Sì, lo so che quando sono in ansia parlo tantissimo. Non spaccare lì. Allora, entriamo qui e poi spacchiamo. Perfetto. Quanti ne mancano? Quanti? Uno. No! Dov'è? Dov'è? Dove sei? Stai buono, stai buono? Sì! Rotto! Ok. No, non l'ho rotto. No, non l'ho assolutamente rotto. Dai! Rompiti! E ora rompo, te, stupido Drago! Spacca il Drago, spacca il Drago, master. Colpisci il Drago, colpisci il Drago. Colpisci il Drago! No! Ok. 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 Ho una paura assurda, ho una paura assurda. Ah no, guardate che ne manca ancora uno. Schifoso lurido, mangia il manzo, va? Mangia, 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 manza. Manza, manza. Eh, vai! No! Che casino, che casino! Però lo stiamo picchiando, ok? Sì, sì, stupido, scappa. Io intanto ti spacco questa. Ti spacco l'ultima torre. Credo sia l'ultima, non lo so. Spero di sì, spero tanto di sì perché altrimenti mi metterei a piangere. Siamo incredibilmente più vicini alla meta. Di quello che mi aspettassi. Ah, ittalo, ittalo tutto, ittalo tutto, ittalo, ittalo, ittalo. Vai, lo stiamo picchiando, lo stiamo... No, 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 no! Ok, io vorrei farvi vedere con quanti cuori siamo rimasti. Con quanti pochi cuori siamo rimasti. Colpisci quell'idiota! E scappa soprattutto. Colpisci quell'idiota e scappa. Dove sei? Dove sei, stupido Drago? Abbiamo mezzo cuore. Abbiamo mezzo, mezzo cuore. Io mi ritornerei nel fortino che non era qua. Ma fatti un fortino qua sotto, ti prego, Master. Ok? E chiudi tutto. Mamma mia! Allora, fatemi vedere cosa c'ho. C'ho un po' di frecce. Ok, ne ho ancora sì, tante. Prendiamo l'acqua che può servire. E questo lo togliamo. Ci prendiamo, perfetto, lo stack che mi ero farmato prima. Nella base. Ok, ok. Quindi aspetto che ricarichi la vita e poi... Dai, dai, dai. Gli manca solo poca vita. Gli manca metà vita, signori. Sono carichissimo. Tra l'altro che cos'è? Quel bonus sulla destra. Quello scudo che c'ho. Non lo so. Non lo so. Ok, mi sono stufato di aspettare. Andiamo con un cuore in meno perché sono troppo adrenalinico per aspettare. Dov'è quel pezzo di fango? Dove sei pezzo di fango? Via c'è. Via c'è. Sbù! No, dai, l'ho ciccato che era fermo. Oh, lo sto ciccando. Bravo. Ok, no. Scusa, scusa, ok. Sì, ho abbassato la testa anche nella realtà per schivarla. Sì, avete visto bene. No, ce l'è. No, dai, non rompermi le palline. Spaccalo. Spaccalo, Massa. C'ho due cuori adesso. Prima ne avevo mezzo, adesso ne ho due. Scappa di nuovo, scappa di nuovo. È la tattica giusta, signori. È la tattica giusta. Sono stracarico, sono carichissimo. Quindi scappa qua dentro, mi blocco, taglio e poi drago. E mangiamo il manzo, va. Uh, vai che fermo. Vai, 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 vai. Prendilo, prendilo. No, scappa. Ok, basta, basta, va bene, basta. Ho fatto abbastanza per oggi. Il mio lavoro qui è finito. Ma non hai fatto niente. Vai, 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 vai. Sì, sì, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, sì. Sì, sì, sì. Eh, oh mio Dio. Mangia, mangia in faccia mentre esplode. Sì. Abbiamo ucciso il drogo. E ora, signori, non vogliatemene, ma... Vabbè, quanta esperienza. Vabbè, no comment. Come lo prendo l'uovo? Così, giusto per dire. Come posso prenderlo? Quel piccozzo. È andato? È morto? Oh no, guardatelo qua. Che succede? No, non sto capendo, ve lo giuro, non ho idea di cosa stia succedendo. Ah, io devo andar lì con la Ender Pearl. No, non sto... Ma oddio, signori, non sto capendo. Come si fa a prendere? Mica bisogna usare un pistone. Boh, non lo so. Signori, la serie è finita e c'è un uovo che scappa dalla mia giurisdizione. Cosa sta succedendo? Lasciamo totalmente perdere. L'uovo c'è. Il portale c'è. Allora, per il futuro, scrivetemi nei commenti come prendere... Sottò! L'uovo di Ender Pearl. Vabbè, non lo so. Mi butto. We are the champions, ma se... Bam, bam. Salta. We keep on fighting to the end. Pa, pa, pa. We are the champions. We are the champions. Fate mu, mu, perché sarà la vostra ultima volta che farete mu, almeno in questo mondo. Tu, maialino, sei stato un aiuto prezioso. Sì, vai nel letto. Metti la testa dentro. So che stai per piangere. Ti voglio bene. Mi hai voluto bene. Ci vogliamo tutti. Bravo, maialino. Signori, non so quanto sia durato questo episodio. Parkour sulla casa. Credo che questo sia il seed più fortunato della storia. Ve lo lascerò nel primo commento. Non so se ve l'ho già detto. Non so se ve l'ho mai detto. Quell'albero forma due... Oh, mio Dio. Quest'albero forma una E. È l'albero E. Dai, lo scopriamo solo l'ultimo giorno. Questo è il seed più bello della storia. Ve lo lascio sotto perché abbiamo trovato due villaggi. Tutte queste cose. E il Forti... Ma cosa volete di più? Ma cosa volete di più? Quindi, signori, non è durato tantissimo l'episodio. Ma questa serie è durata abbastanza. Da farvi dire che è una delle migliori che io abbia mai fatto. E soprattutto più fortunate. Quindi dall'alto della mia casa salvo ed esco e mi tolgo pure le cuffie, come alla fine di ogni video e di serie leggendaria. Quindi, signori, io, dopo una sistematina veloce di capelli, vi ringrazio per la visione. E spero che questa serie ed episodi, ma specialmente serie, vi sia piaciuta. O piaciuti, vabbè, avete capito. Consigliatemi nei commenti altre serie, altre cose da iniziare su Minecraft. Mentre per gli altri giochi ci penso io. Vi ringrazio per la visione. In caso, vi invito a guardare tutta la serie e la playlist che è denominata Hardcore. Ma io vi do appuntamento domani alla solita ora per ore 2.45 con un nuovo video. Ciao! Abbiamo battuto l'Ender Dragon al primo tentativo. Bravo massa!